Antonio del Pomo, presidente del gruppo sportivo Mario Canonico San Lorenzo. Presidente, si riparte, c'è questa doppia anteprima della potistica internazionale San Lorenzo che il 28 settembre viverà la sua 53esima edizione, ma prima c'è questa anteprima, il concorso scolastico e il progetto Aspettando la San Lorenzo. Sì, questa è una conferma che la San Lorenzo non è solo la potistica, ma è fatta anche di queste manifestazioni collaterali, che per noi sono un investimento verso la potistica, cioè il nostro obiettivo è quello di portare questi ragazzi a vivere una giornata di sport e con la speranza di che questa giornata non sia un punto di arrivo, ma un punto di partenza verso una vita piena di sport e di serenità. Ricordiamo le date e gli appuntamenti di questa doppia anteprima. Il concorso scolastico inditolato a Presidente Antonio Ragone si rispetterà giovedì 8 maggio alle ore 16.30 allo Stadio Comunale. Quest'anno per l'occasione... Poi il concorso scolastico invece il venerdì giorno 9, alle ore 9 allo Stadio Comunale con la partecipazione della Rundini di Cava di Tireni, che anche loro gareggeranno in un'attività... Al giorno di oggi si presenta la doppia anteprima della potistica internazionale San Lorenzo, il concorso scolastico e il progetto Aspettando la San Lorenzo, due eventi che testimoniano che la potistica continua a investire sui giovani e soprattutto sui valori autentici dello sport da trasmettere ai giovani. Dopo 53 anni di attività della potistica San Lorenzo ormai abbiamo tanti giovani di un tempo che sono diventati nonni continuando a seguire con grande attenzione questa iniziativa che onora Cava di Tireni perché è un'iniziativa di respiro indubbiamente internazionale e questa è la ragione per la quale come sindaco sostengo questa iniziativa e partecipo personalmente a tutte le manifestazioni compreso le conferenze stampe perché effettivamente meritano un grande sostegno, una realtà che nasce dal popolo nel ricordo del grande presidente Antonio Ragone che l'ha voluta, che l'ha guidata e oggi questa iniziativa va avanti con tutti i dirigenti della San Lorenzo e con il popolo di Cava che continua a sostenerla. Una gran bella iniziativa della quale siamo particolarmente orgogliosi.